Parliamo di Blood Crossroad, un promettente videogioco horror che sta venendo sviluppato da Serafini Productions e di cui ho avuto il piacere di provare la demo. Se non mi conoscete, io sono Francesco Tognolo, sono un professore universitario e mi occupo di videogiochi. Dunque, siamo qui per parlare di quello che si vede all'interno di questo primo assaggino di questo videogioco che è per il momento sicuramente promettente, quindi è ancora presto ovviamente per andare a capire in che direzione si andrà effettivamente con tutta una serie di tematiche, di questioni, però sicuramente è promettente, ci sono degli elementi di curiosità. Innanzitutto diciamo anche che si presenta anche piuttosto bene a livello tecnico, quindi sarebbe interessante anche fare un ragionamento in tal senso su come sono andati a procedere perché sembrano di quelle fasi di mimetismo in cui attraverso una selezione molto accurata di dove andare a investire dei soldi in termini di asset e quant'altro si riesce anche a dare l'idea di un videogioco più costoso di quello che probabilmente è stato, però su questo punto c'è eventualmente da andare a parlare con gli sviluppatori, però insomma si presenta sicuramente bene a una sua piacevolezza, a un suo impatto e funziona nell'ottica horror come scelta proprio di ambientazione, di atmosfera, oltre che di mera qualità visiva. Però quello che mi ha incuriosito di più è questo elemento tematico che viene presentato, che come detto non sappiamo ancora quanto sarà centrale, però se si banca a vedere quella che è la pagina di Steam si parla di alcolismo, si parla di alcolismo e di problematiche mentali. Ora questo secondo punto è usato, per non dire abusato, nell'ambito dei videogiochi horror, soprattutto quelli prima persona, molto atmosferici, quindi è fin troppo presente. L'altro è un punto sicuramente che mi ha suscitato molta più curiosità, anche perché ogni tanto compare, anche quello nei videogiochi, però non è un discorso, non è un tema così frequente, peraltro abbiamo avuto in passato, bellissimo su questo argomento di tutt'altro genere, Papo e io, non so se lo conoscete, quel videogioco della PlayStation 3 autobiografico, di questo sviluppatore che raccontava del suo rapporto con il padre alcolizzato. Quindi non siamo, direi, in questo settore, però ci sono sicuramente degli elementi di potenziale sviluppo che vale la pena tenere d'occhio, anche in relazione a quello poi che è il mostro che ci viene presentato, perché sostanzialmente dalla demo, senza fare grossi spoiler, ma quello che vediamo sono principalmente il personaggio principale, questo William, che lo vediamo lì al bar che sta bevendo e che ha tutta una serie di sogni allucinatori, forse causati dall'alcol stesso che sta assumendo, vediamo delle figure di contorno, c'è il barista che però sta lì per i fatti suoi, c'è questa misteriosa indovina con cui va a interfacciarsi a un certo punto, e poi soprattutto c'è il mostro. Mostro che, a quanto mi sembra di capire, poi potrei sbagliare, ma ci sono tutta una serie di indizi che vanno in questa direzione, si vedono soprattutto i quadri dipinti nella casa dell'indovina, mi sembra di capire che sia un particolare yokai, quindi quei mostri, quelle creature del folklore giapponese, e parliamo in particolare della futacucionna, ovvero questa donna che ha una seconda bocca dietro la testa, quindi è interessante, dicevo, e probabilmente è quella la direzione, è quello lo spunto, perché va in effetti a legarsi a quello che immagino possa essere una delle tematiche di fondo che verranno sviluppate, in un senso o in un altro. Allora, futacucionna solitamente è presente appunto in tutta una serie di storie del folklore che vanno un po' in varie direzioni, è un po' come le fiabe, che chiaramente anche lì c'è un elemento di fondo, ma poi ci sono tutta una serie di declinazioni differenti che la storia va a prendere. Quindi qui abbiamo, da un lato, quello che è tutta una serie di storie, di filoni, di una donna malnutrita, che mangia poco, però poi rivela questa bocca, come dicevo, dietro la testa, che invece dimostra una grande voracità, che usa anche i capelli che vanno a prendere vita per andare a nutrirsi. C'è anche poi un altro filone che riguarderebbe delle storie, dove invece questa seconda bocca deriverebbe dal fatto che le è stata spaccata la testa. Quindi solita storia, il marito con un colpo d'ascia vuole fare fuori la moglie, le lascia questa ferita che va poi invece a trasformarsi in questa sorta di bocca mostruosa. E quindi, da un lato, si potrebbe andare in questa direzione che così, da quello che ho visto finora, non penso sia la strada, cioè il fatto che questo protagonista, William, abbia fatto qualcosa a una sua ex, a una moglie, e poi c'è questo elemento di vendetta, quindi uno spirito vendicativo, oppure più probabilmente rappresenta un po' questa sorta di esternazione di un suo demone interiore legato all'eccesso, all'abuso, un abuso di alcol probabilmente, perché appunto questa futacuciona, se volessimo andare a inserirla in un discorso moralizzante, è proprio legata a questo fatto del consumo eccessivo, spesso di cibo, in questo caso sarebbe un consumo di alcolici, quindi probabilmente, mi viene da pensare, potrebbe esserci questo ponte, potrebbe esserci questo legame, per cui è una cosa anche qui che non rappresenta una novità assoluta, cioè il fatto che ci sia un mostro che ha una caratteristica moralizzante cioè il fatto che, reale o immaginario che sia, è comunque una sorta di proiezione di un vizio, di un problema, di una colpa che il protagonista di turno ha e che quindi viene perseguitato da questa esternazione di quello che è un elemento interiore, appunto, come dicevo prima, una sorta di demone interiore che viene proiettato verso l'esterno e con cui si trova concretamente ad avere a che fare. Anche lì bisogna capire quanto fino a che punto sia anche effettivamente reale questa presenza e quanto invece non si tratti di un'allucinazione, perché, come detto, vediamo che abbiamo questi momenti in cui il protagonista è minacciato, poi lo vediamo risvegliarsi al bancone del bar con davanti un bicchiere di alcol e è lì che dice ho fatto un altro sogno, ho avuto un altro incubo. Però questo tutto sommato ci interessa meno perché, a prescindere dalla realtà di questa entità, sarà interessante andare a vedere per l'appunto in che modo questa va ad aiutarci a veicolare quello che può essere un po' il messaggio di fondo, che può rendere interessante un videogioco di questo genere, che può dare quell'elemento in più anche, perché sembra comunque sicuramente un prodotto degno di essere preso in considerazione per quelli che sono proprio i suoi aspetti più intrinsechi del genere. Quindi la creazione dell'atmosfera è curiosa, sicuramente ci sono tanti elementi che vanno a vantaggio a favore di questo gioco, in quest'ottica, per cui su quello c'è un gioco che si presta bene, ma sicuramente c'è sempre quell'elemento in più di potenziale interesse quando un videogioco ha anche qualcosa da dire, c'è qualcosa su cui fermarsi un momento e andare a riflettere, su cui andare a realizzare degli articoli, dei commenti su YouTube, fare delle discussioni, andare a fare quei classici video, sapete no, tutta la storia dietro a Blood Crossroads, cose di questo genere qui, è un elemento sicuramente aggiuntivo, quindi al momento possiamo solo fare delle ipotesi, come dicevo, ma sicuramente è un videogioco che terrò d'occhio nel momento in cui sarà presente la versione definitiva e se sarà il caso, se ci sarà qualcosa da andare a commentare, vedrò se fare un altro video a riguardo, dove dire qualcosa in più una volta avendo visto il prodotto completo.